biglia chiappa paura di maria loretta giraldo con le illustrazioni di giulia orecchia edizioni libri biglia chiappa paura è arrivato in città un pomeriggio dello scorso autunno soffiava un vento forte ma un vento così forte che gonfiava il suo mantello di pezze colorate lo faceva assomigliare a una mongolfiera e per un momento mi è sembrato che billy e il suo carrettino volassero nell'aria billy a chiappa paura veniva avanti cantando un allegro ritornello che si perdeva nel turbinio delle foglie signori e signore di questa città che ha grosse paure venga un po' qua arriva billy a chiappa paura che di ogni tipo di fifa ha la cura paura acchiappata mezza passata ecco billy ha esclamato la mamma eravamo quattro bambini uno più pauroso dell'altro e allora signor billy signor billy billy l'ha guardata le ha sorriso in un battibaleno era già nella nostra grande cucina carrettino è tutto così hanno usato l'aria e poi ha ammesso beh sì effettivamente qui di paure grosse ce ne sono un bel po' e ora le scoveremo una una estate certi paura acchiappata mezza passata così diceva sempre billy billy si è messo a sedere sulla sedia a dondolo vicino al camino ha appoggiato la schiena e si è fatto due dondolate mentre ci guardava in silenzio e poi ha detto mettiamo subito in chiaro una cosa bambini chi non ha almeno una paura è inutile che resti qua perché io insegno come si fa ad acchiappare le paure proprie e non quelle degli altri intesi nessuno ha fiatato e nessuno si è mosso e billy acchiappa paura ci ha raccontato questa storia due semi per il principino c'erano una volta un re e una regina che ogni giorno dicevano sospirando come sarebbe bello avere un figlio passavano i giorni passavano gli anni ma quel figlio non arrivava proprio mai così quando il bambino nacque il re decise di fare una grande festa invitò conti e contesse baroni e baronesse e anche una fata che facesse da madrina quando la fata arrivò tutti aspettavano con curiosità di vedere il suo regalo per il bambino e ci rimasero molto male quando videro che non era che una scatolina con dentro due piccolissimi semi come solo due semi disse il re ma è una vergogna un vero affronto ma la fata tranquilla consegnò quei due semi al re e gli disse maestà questi sono due semi preziosi il primo è il seme della paura il secondo è il seme del coraggio piantateli e curateli con amore perché con loro il principino crescerà intelligente e forte quando tutti se ne furono andati il re ordinò che fossero portati due grandi vasi pieni di terra per piantarci i semi ma un consigliere che si credeva il più furbo di tutti si avvicinò e disse maestà piantate solo il seme del coraggio così mano a mano che la piantina crescerà il principino diventerà sempre più coraggioso invece il seme della paura non serve affatto è anzi giusto fece il re piantò così solo il seme del coraggio curandolo e annaffiandolo ogni giorno arrivò la primavera venne l'estate poi vennero l'autunno e l'inverno e poi di nuovo la primavera il re annaffiava e annaffiava eppure la piantina del coraggio non spuntava oi boh disse un giorno il re ma qui c'è qualcosa che non va e fece chiamare la fata madrina quando lei arrivò la prima cosa che chiese fu maestà ma li avete piantati tutti e due i semi che vi ho dato no confessò il re solo quello del coraggio ah ecco esclamò la fata eppure gli avevo detto di piantare anche l'altro il coraggio infatti spunta quando si deve vincere una paura quindi capite bene che se non c'è paura non può esserci neppure il coraggio giusto fece il re e chiese alla regina di portare subito il secondo seme che lei per prudenza aveva conservato nello scrigno della corona così dopo un po spuntarono le due pianticelle e il principino crebbe intelligente e coraggioso come la fata aveva predetto e il consigliere che si credeva il più furbo di tutti fu licenziato ecco cosa dice il saggio senza paura non c'è coraggio no 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 Grazie per la visione